Parliamo dunque di siccità, abbiamo riportato la notizia del governatore Cirio che ha chiesto lo stato di calamità per quanto riguarda l'agricoltura ed ora parliamo di questo problema con Gabriele Martinazzo, presidente del Cordar. È una situazione difficile, critica? Dopo un inverno difficoltoso, con la carenza di neve in montagna, ha portato delle grosse problematiche nel nostro territorio, soprattutto in primavera, a inizio di aprile. Che poi si è risolta, fortunatamente, con il fatto di aver piovuto per qualche giorno e poi nel mese di inizio maggio di nuovo ripiovuto. Chiaramente per quanto riguarda il Cordar Biella si è fatto una sorta di monitoraggio con un semaforo di tre colori, rosso, giallo e verde, che la dottoressa Tacchini con il suo staff sta monitorando comune per comune dei 44 comuni che ha Cordar Biella, verificando le gravità dove ci sono. In questo caso, per ora, in questo momento qua, c'è qualche comune con il puntino giallo, ma è tutto sotto controllo. Si spera che per fine settimana ripiova e chiediamo solo l'acqua in questo momento. Anche da voi comunque arriva un appello a non consumare acqua dove non occorre? Sì, la parsimonia di questo periodo lo richiede la Regione, lo richiede lo Stato. Il cambiamento di clima c'è e bisogna cercare di guardare, di non esagerare nel dispendio di acqua. È vero, in questo periodo qua tutti noi amiamo ad avere i fiori in casa, ad avere i balconi fioriti, ad avere l'orto, bagnare l'orto, ma in questo caso, in questo momento così difficile, bisogna cercare di parsimoniare, di avere occultezza nell'usare l'acqua. Cordar presenterà il bilancio, no? Fra poco avrà, ed è un bilancio che mi sembra sia roseo. Come si dice, l'assemblea è lunedì, sì, siamo contenti, non posso rilasciare altre dichiarazioni perché, come voi ben sapete, sì, lunedì avverrà l'assemblea e giustamente si dirà com'è il bilancio. Sono onorato di rappresentare l'ente di Cordar perché abbiamo tre dirigenti molto capaci, abbiamo uno staff dirigenziale veramente ad alti livelli e tutto l'organico di Cordar Biella, dal primo all'ultimo, sono operativi e lavorano in un certo modo. Questo ha fatto di questo ente un'eccellenza del territorio e sono molto onorato di rappresentarlo e di portare avanti tutto ciò che fa Cordar in questo periodo. Il perché anche non abbiamo grosse difficoltà con l'acqua è perché Cordar ha investito sempre i denari pubblici nel pubblico e nel suo territorio. Questo è l'eccellenza e la differenza di Cordar Biella. Grazie. Grazie.